cari amici di total photoshop ma soprattutto care amiche di total photoshop continua il nostro percorso dedicato alle tecniche di fotoritocchi in questi anni ne abbiamo viste tante probabilmente le avrete imparate le avrete assimilate le avrete fatte vostre e avrete trovato il vostro stile il vostro workflow per il fotoritocco ma questo non significa che non ci siano altre tecniche da imparare per ottenere degli ottimi risultati parliamo di bellezza parliamo di fotoritocco beauty e parliamo di tecniche particolarmente avanzate cerchiamo di alzare l'asticella in questo senso per migliorare le nostre immagini per imparare qualcosa di più complesso di più avanzato quanto meno apparentemente nel senso che quello che scopriremo in questo in questo video corso se vi farà piacere scaricarlo naturalmente sono nuove tecniche che in realtà sono molto semplici l'unica caratteristica richiesta è quella di avere un po di pazienza soprattutto nella fase iniziale cioè nella fase in cui si apprendono queste tecniche e si sperimentano poi con l'esperienza e continuando a lavorarci vedrete che riuscirete anche a assumere a prendere a lavorare con più velocità e tutto questo farà di voi dei professionisti di un certo livello di un livello molto elevato comunque vediamo cosa impareremo in questo videocorso quindi fotoritocco beauty tecniche avanzate di fotoritocco della pelle i temi del videocorso trattati sono semplicemente come ottenere foto e immagini in cui non si percepisca il fotoritocco e scopriremo tecniche semplici ed efficaci come vi anticipavo poco fa adatte anche agli utenti meno esperti e già questo potrebbe essere strabiliante di per sé che cosa si imparerà si imparerà a migliorare l'immagine già dallo scatto gestendo più esposizioni semplicemente e capiremo già nel primo capitolo che cosa significa ridurremo gli inestetismi con la tecnica dei livelli di frequenza ridurre gli inestetismi sappiamo bene cosa significa significa rimuovere tutte quelle imperfezioni della pelle le impurità per i superflui brufoli nei che non vogliamo che si vedano particolari macchie noi l'abbiamo sempre fatto con delle tecniche almeno per quanto riguarda i miei videocorsi le mie video lezioni con delle tecniche in realtà molto semplici che prevedevano l'utilizzo del pennello correttivo in questo caso lo strumento è lo stesso ma viene utilizzato in maniera diversa e da un certo punto di vista anche in maniera un po più semplice basta superare un piccolo scoglio andiamo avanti con gli argomenti che impareremo impareremo a ritoccare la pelle mantenendo la naturalezza della foto qui non stiamo parlando di naturalezza della pelle in sé quella la vedremo dopo stiamo proprio parlando di naturalezza della foto in una foto molto spesso quando si va a ritoccare la pelle si agisce anche sulle luci e sulle ombre modificandole ecco questo può essere ovviato con una tecnica veramente semplice è una di quelle tecniche che probabilmente richiede un po più di tempo specialmente nella fase di apprendimento ma vedrete il risultato finale poi capiremo come curare i dettagli delle foto che ovviamente sono fondamentali quindi andremo a rimuovere tutti quegli elementi di distrazione che ci permettono di concentrarci solo sul soggetto della nostra immagine andremo a vedere delle nuove tecniche per la correzione del colore e delle dominanti e poi andremo a capire come ricostruire la texture della pelle mantenendo il fotorealismo quante volte vi siete soffermati davanti a un negozio di prodotti cosmetici una profumeria magari ad osservare delle foto di modelle che avevano una pelle che sembrava quella di una bimba beh il merito è soprattutto nel fotoritoccatore bene che ci sia un buon fotografo ma chi poi va a ritoccare la foto è quello che fa il lavoro sporco tra virgolette vediamo però alcuni esempi di quello che vedremo in questo caso vedete una foto scattata dal buon max vista così tutto a posto ma se io vi faccio vedere qual è l'immagine originale spengo il livello after guardate un po praticamente abbiamo due persone diverse qui il ritocco da parte mia è stato volutamente importante ho rimodellato il viso di questa modella ho ritoccato molto la pelle in alcuni vedete anche le parti delle sopracciglia sono state ritoccate e anche il trucco che a mio avviso non era il massimo si poteva fare di meglio però insomma si può comunque agire tranquillamente con i fotoritocchi andare a migliorare ulteriormente la foto comunque la foto di partenza è ottima semplicemente quando si parla di beauty ovviamente non ci si può permettere di avere dei difetti all'interno dell'immagine seconda foto la seconda foto fatta da me in realtà è una composizione completamente sbagliata una foto non scattata secondo i criteri di un fotografo professionista quale io non sono in realtà comunque lo scopo è farvi vedere qual è il risultato finale vedete la naturalezza della pelle che ho cercato di mantenere ma la foto iniziale era questa con una dominante rossa completamente sbagliata quindi qui i bianchi erano del tutto errati quindi il primo passaggio è stato quello di eliminare il più possibile le dominanti senza intervenire troppo sull'immagine per poi andare sul ritocco della pelle degli occhi guardate soprattutto la parte degli occhi com'è cambiata e vedremo anche questo tipo di lavorazione come si esegue e passiamo adesso una foto decisamente migliore questa una modella professionista francesca colombo per chi volesse contattarla realtà molto bella e anche in questo caso la foto l'ho scattata io a luce naturale non c'erano flash non c'erano non c'era nessun tipo di luce artificiale questo è l'after questo è il before vedete che già il punto di partenza è di buon livello nel senso che abbiamo detto la modella è molto è molto bella con delle caratteristiche del viso molto particolari però la foto forse non era nelle condizioni di illuminazione migliore per cui un intervento sulla pelle di questo tipo era necessario e infine vediamo l'ultima immagine che non è centrata ma questa è l'immagine finale questa è sempre la stessa modella quindi francesca colombo questo è l'after e questo è il before forse qui ho anche esagerato nella sperimentazione del foto ritocco vedete che ho aggiunto addirittura delle luci che nell'immagine originale non c'erano l'immagine dietro è molto è molto scura però quello su cui ci dobbiamo soffermare principalmente è la pelle perché è la parte più importante di questo video corso vedete before vedete l'after vedete anche come luci e ombre hanno un aspetto molto naturale seppure siano state corrette notevolmente e vedete anche la texture della pelle sembra quasi incipriata in maniera importante in fase di trucco ma tutto questo è merito o colpa dipende del foto ritocco bene non ci resta quindi che andare a scoprire come cambiare una foto dallo scatto al risultato finale ma ovviamente si fa step by step e partiamo col primo capitolo e partiamo con il lavoro sull'esposizione dell'immagine